Da Rezzo a Montevarchi il modus superandi è sempre lo stesso, lo spacciatore gira in bici tra le vie del centro e dà appuntamento ai suoi clienti. Così è stato fermato ed inseguito in pieno centro storico a Montevarchi uno spacciatore pregiudicato quarantenne arrestato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per analoghi reati, è stato fermato mentre stava percorrendo le strade del centro valdarnese in bicicletta. Alla vista dei militari si è inervosito, ha cercato di cambiare direzione, è iniziato così un inseguimento e poco dopo l'uomo è stato fermato e trovato in possesso di due dosi di eroina confezionate e pronte per la vendita. All'interno della sua abitazione sono stati sequestrati altri 58 grammi di marijuana già pronta per la vendita, una dose di hashish, tre piante di cannabis, un bilancino di precisione e fertilizzante per la coltivazione della cannabis. Per il quarantenne è scattato l'arresto in flagranza di reato.